Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipili per lavori, due chilometri di coda in direzione Firenze, tra Empoli e Montelupo-Fiorentino. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza, con restringimenti, percorsi alternativi sulla Provinciale 12 o per viaggi più lunghi sulla 11, tutte le info sui nostri canali social. Chiusa per lavori l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata e restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. La viabilità cittadina in Viale Lavagnini a Firenze per lavori, chiusura del controviale da Via Leone X a Viale Strozzi. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!